Ieri mattina a Pesaro per un senegalese di 28 anni irregolare nulla facente già noto alle forze dell'ordine domiciliato nel Riminese si è aperto il cancello della casa circondariale di Villa Fastigi. E' stato arrestato in flagranza di reato per attentata estorsione nei confronti di un turista 57enne e di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Le manette sono scattate per lui a seguito di una attentata estorsione ai danni di un turista in vacanza a Pesaro al quale dopo avergli rubato l'auto gli ha chiesto un riscatto, una somma di 1600 euro per riaverla indietro, il classico cavallo di ritorno nel gergo malavitoso. Ma il malcapitato turista non c'è stato ed è subito andato ai carabinieri di Pesaro per denunciare l'accaduto, i quali, seguendo le descrizioni fatte dall'uomo, si sono subito messi alla ricerca del ricattatore che è stato rintracciato nel centro della città di Pesaro dove si aggirava in attesa della risposta del turista. Alla vista dei militari il senegalese ha tentato di scappare ma è stato catturato e perquisito. Addosso i carabinieri gli hanno trovato le chiavi dell'autovettura del turista parcheggiata nelle vicinanze e 9 grammi di eroina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. L'extracomunitario è stato immediatamente arrestato e portato al carcere di Villa Fastigi a disposizione dell'autorità giudiziaria.